Ciao Mauro, la prima domanda è una tua considerazione sulla partita del Mariano vinta per 3 a 2 sul Cantù. Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio il Cantù per l'ospitalità, è sempre un piacere tornare e vedere amici. Sulla partita cosa c'è da dire? Sono le prime partite, serve molto gli allenatori per fare le valutazioni dei singoli, secondo me il risultato conta meno di niente, per quanto mi riguarda oggi si è viste 2-3 conferme che pensavamo come il nostro centro avanti e qualcuno che è ancora indietro di preparazione, quindi abbiamo tempo, è solo una settimana che lavoriamo, dobbiamo continuare a lavorare. Quest'anno il Mariano è in promozione, l'obiettivo principale? L'anno scorso mi sono lasciato andare forse un po' troppo verso l'obiettivo dei playoff ed è finito con una retrocessione, quindi preferisco non dire niente, sono stato chiaro con i ragazzi del spogliatoio e gli ho detto non diciamo niente e basta, quindi dobbiamo tutte le domeniche battere i nostri avversari, poi se arriverà la promozione vedremo, se no non è importante avere la coscienza a posto. La squadra è al completo così o manca ancora qualche innesto, qualche nuovo giocatore? La rosa è al completo, non è ancora arrivato Prandini che è un giocatore che dovrebbe alzare il tasso di qualità del nostro centro campo, c'erano due infortunati purite tra battoni che hanno dato delle buone risposte all'inizio, però diciamo che la rosa è completa, è solo una questione di tempi che non sono ancora tutti in forma, non sono arrivati dalle vacanze, tutto lì. Un'ultima domanda, il Cantù come l'hai visto? Il Cantù farà sicuramente un campionato da protagonista, i giocatori, lo stesso Lele Pappalardo, il gol che ha fatto oggi è indice di qualità e quindi mi auguro che, un consiglio che do soprattutto a Fabio è che nel calcio non c'è niente di scontato e loro devono sapere che sono forti ma non basta, questo non basta mai nello sport, quindi gli auguro di fare bene ma soprattutto di essere un gruppo unito e di perseguire l'obiettivo con molta ma molta ma molta umiltà, ecco questa è la cosa che auguro al tutto il gruppo del Cantù. Gianluca, prima prova importante questa, Cantù Mariano, sconfitta per 3 a 2, però una tua considerazione sulla partita, sulla gara? Ma intanto noi arriviamo da tre giorni di preparazione quindi mi aspettavo anche meno e secondo me i ragazzi si sono comportati bene. Eravamo mischiati quindi non era né la squadra titolare né niente, ho mischiato un po' le carte giusto per vederli tutti e averli tutti concentrati. Sono tranquillissimo, contento perché ho visto dei ragazzi che non mi aspettavo reagire veramente bene, tipo i giovani 97 che sono integrati con la squadra, in più sorprese non ce ne sono perché Pappa fa gol e continua a fare gol e ho visto Omar che si muove veramente bene, sono contento che ha cercato il gol, che si è dato da fare, quindi non c'ho proprio da recriminare niente, sono stati tutti bravi, sono contento, ho fatto i complimenti a quelli del primo tempo e anche quelli del secondo. La strada è lunga, il 28 ci aspetta la prima gara e vedremo lì la vera squadra titolare o meglio la vera squadra che sarà più in condizione per poter giocare la prima partita.